Il primo ottobre 2008, Nupi S.p.A. e Gecko System S.p.A. si uniscono per formare un'unica grande realtà industriale, con stabilimenti in quattro continenti. Le principali sedi produttive localizzate in Italia, nelle province di Bologna e Varese. Nupi e Gecko System nascono entrambe negli anni 70. Vantano un'esperienza più che trentennale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di tubazione per i settori idrosanitario, industriale, per il trasporto di gas, per l'irrigazione e riscaldamento. Alle due aziende si unisce l'esperienza della divisione industriale, fondata nel 1995 e preposta alla produzione di tubazioni polimeriche, specificatamente dedicate ai mercati petroliferi. Nupi Holding oggi è un gruppo solido presente in quattro continenti, con esportazioni consolidate in 67 paesi di tutto il mondo. La principale società del gruppo Nupi è Nupi Gecko S.p.A., nata dalla fusione delle attività industriali di Nupi e Gecko System. Nupi Gecko vanta una produzione di più di 20.000 tipi di tubi e raccordi, corredati da certificazioni di livello europeo e internazionale. In tutti i paesi in cui è presente, Nupi Gecko esporta tubi e raccordi per impianti petroliferi, gasdotti, acquedotti per la distribuzione di acqua calda e fredda degli impianti idrosanitari e di condizionamento. Tubi e raccordi sono realizzati con le più moderne tecniche di produzione e commercializzati con diversi marchi, ognuno con peculiarità e caratteristiche differenti. Smartflex è la linea di tubi multistrato, realizzati con tecnopolimeri all'avanguardia, utilizzati per applicazioni downstream, come il trasporto di carburanti per autoveicoli per autotrazione nelle stazioni di servizio, di carburanti avio negli aeroporti e per la costruzione di depositi di carburanti in genere. OILTECH Y100 è la linea di tubi utilizzati per applicazioni upstream. Offre i vantaggi della bassa permeabilità agli idrocarburi, dell'alta resistenza alla corrosione e grazie alla sua particolare superficie interna elimina il problema dei depositi occlusivi. I tubi OILTECH Y100 permettono l'applicazione ottimale nel campo dell'estrazione petrolifera e del gas. La linea polietilene-tubi è idonea per condotte di fluidi in pressione, quali acquedotti e gasdotti. ELOFIT è un sistema di raccordi elettrosaldabili e pezzi speciali in polietilene ad alta densità che arriva fino al diametro 1200, idoneo per la realizzazione di impianti per il trasporto di acqua e gas in pressione. Una tecnologia avanzata permette inoltre la completa rintracciabilità delle saldature. I raccordi ELO-PRESS a compressione completano la linea sistema polietilene. NIRON è un sistema completo di tubi e raccordi in polipropilene copolimero random per il trasporto di acqua sanitaria, per il condizionamento e il riscaldamento. Un materiale plastico che assicura una elevata resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. Oltre 220.000 km di tubi installati negli ultimi 30 anni e una gamma fino al diametro 400 mm confermano come il sistema NIRON sia una efficace alternativa ai materiali tradizionali impiegati nel settore termoidraulico. Multinupi è un sistema di tubazioni multistrato e raccordi a pressione meccanica indicato per gli impianti idrosanitari e di riscaldamento. I raccordi sono del tipo PRESS-FEEDING a pressione meccanica, realizzati in ottone o materiale plastico. Multigeco è un sistema di tubazioni multistrato e raccordi a pressione di tipo assiale a passaggio totale per gli impianti idrosanitari e a gas. I raccordi di questo sistema sono a pressatura assiale. Un apposito pressatore trascina una boccola di serraggio lungo l'asse della tubazione. ELOTERM è un sistema completo costituito da tubi in polibutilene e da una vasta gamma di raccordi a innesto in polifenilsulfone. È stato ideato per il trasporto di acqua ad alta temperatura. I raccordi a innesto consentono una installazione rapida, sicura e affidabile nel tempo. La linea sanitaria EcoWave è rappresentata da una serie di cassette e accessori per l'installazione di sistemi di risciacquo a incasso. La qualità dei nostri prodotti è certificata dal superamento dei test di settore e dalla conformità alle normative dei cinque continenti. Da sempre, NupiGECO ha puntato sulla ricerca e sullo sviluppo, a cui dedica il 5% del suo fatturato. Ricerca, controllo, qualità e assistenza post vendita le hanno consentito di ottenere certificazioni internazionali e di conquistare sia i mercati emergenti che quelli più difficili da penetrare. NG Institute si presenta come società indipendente per certificazioni, ispezioni e soprattutto testing, grazie alla sua divisione AC Lab. AC Lab, il laboratorio per le prove dei materiali plastici, ha ottenuto nel 2007 il riconoscimento di valenza internazionale attraverso l'accreditamento SINAL, il Sistema Nazionale di Accreditamento dei Laboratori di Prova, in conformità alla norma UNICEI ENISO IEC 17025. La formazione diventa un punto fondamentale per la società. Operatori perfettamente istruiti sono in grado di realizzare installazioni perfette. Ecco perché Network offre un centro di formazione, l'atelier. La società cura, grazie al contributo di esperti istruttori, la formazione professionale dei propri installatori. Il centro di formazione della Network, l'atelier, rilascia ogni anno più di 750 attestati, abilitando figure indispensabili come il saldatore o il capocantiere. Oggi indispensabili per soddisfare a pieno tutte le richieste di un settore che si evolve e cresce nel tempo. Il personale, altamente specializzato, progetta e realizza prodotti e sistemi di soluzione che semplificano e velocizzano le installazioni. Nupi GECO accoglie le richieste delle aziende, fornendogli in tempi brevi progetti dettagliati, campionature e prodotti dimostrativi volti a soddisfare le esigenze del cliente. L'assistenza post vendita è garantita dal lavoro dei tecnici e dal reparto commerciale che forniscono risposte e soluzioni efficienti a qualsiasi problema venga al loro posto. Nupi GECO crede in un mondo ecosostenibile e lavora per l'ambiente, la salute e la sicurezza di un futuro a tutti noi caro. L'impiego di fonti di energie rinnovabili è sempre stato l'obiettivo primario di un investimento responsabile di risorse economiche e umane. Il tetto dell'azienda di Busto Arsizio mostra come l'impiego di Elo Solar, il fotovoltaico, oggi sia in grado di produrre energia elettrica per 700.000 kWh anno e quindi di risparmiare all'ambiente 330 tonnellate di anidride carbonica immissa in atmosfera. Tecnici e progettisti della Divisione del Sole hanno ideato la gamma Eloheb, impianti radianti a pavimento per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici civili industriali. Energeo è il sistema di scambiatori geotermici che estraggono l'energia termica dal sottosuolo per la produzione di acqua calda. Il risparmio energetico è oggi un imperativo categorico per la salute e il benessere di tutti, affinché l'indipendenza energetica dei singoli per il rispetto globale del sistema ambiente divenga realtà. Elo Sfera nasce proprio da questa consapevolezza, un progetto ambizioso che sfrutta la sinergia di sistemi efficienti e fonti rinnovabili. Elo Solar, Elo Web ed Energeo, i tre prodotti Nupigeco a servizio dell'ecologia. Questo nuovo e avvincente progetto è stato realizzato grazie a un impegno serio, costante e continuo di una forza aziendale entusiasta e vincente. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!